Incredibile ragazzi, benvenuti in questa nuova partita dove andrà a giocarsi Roma-Lione allo stadio olimpico dove vedremo queste due grandi squadre per l'Europa League vedersi sfidare e possiamo dire due grandi squadre volevo questa partita specialmente che arrivasse più avanti gli 11 giocatori, gli 11 cittolari della Roma che vediamo come Zecco con punta centrale, Nangolane, Salah, laterali, Emerson, Perez, esterni, Strotman e De Rossi difesa, Rudi, Kermano, Lasse e non ho letto chi mentre quelli dell'Olympic-Lione in attacco sicuramente giocheranno con la Gazette, Depay, Gazelle, Feric, Gondlas, Tolisso, Morello ok, non riesco a leggere la velocità dello schema, è troppo veloce quindi partiamo subito con la partita dove vedremo gli arancioni con la maglia arancione e la Roma mentre con la maglia bianca vedremo di sputare il Lione parte subito il... la Roma però sbaglia subito quindi non c'è nulla da fare Zecco, Salah, qua vedremo ovviamente le high list e le azioni sconvolgenti della storia Bruno Perez, riprende palla a De Rossi De Rossi che prova a inserirsi centralmente, avanza pian pianino smarca uno, passaggio per Rajan, Angolan, De Rossi di nuovo incredibile errore davanti alla porta ha lasciato un piattone di collo pieno, purtroppo l'ha preso da esterno e non ha dato fuori la palla bellissima questa azione da parte di De Rossi con Rajan, Angolan ottima azione da parte dei due, grandissimi giocatori poi intanto rivediamo di nuovo, Zecco, prende il pallone Zecco, di forza, uno contro uno, prova il cross centralmente ma viene bloccato sarà calcio d'angolo, prova il calcio d'angolo Manolas bellissimo, Zecco scusate Zecco prova ad anticipare, ovviamente è andato troppo veloce è andato all'esterno della porta, di poco, ottima conclusione ottimo attacco da parte di Zecco che prova a farsi vedere e prova a portare la vittoria alla squadra intanto vediamo qua, Fekir passaggio per Monreal, bellissimo questo tiro, brividi per la Roma Brutiger fa cadere guardate l'azione qua ha visto il movimento, si è inserito, prova di sinistro subito Cessni di poco, non riesce a raggiungerlo veramente un tiro potentissimo intanto qua Ferry, passaggio per la Gazette che è libero prova il tiro, Rete! Rete alla Gazette! non perdona nessuno! bellissimo qua poi riprende subito, Tolisso, riprova di nuovo la Gazette! Fekir, scusate! Cessni qua difende! difende la porta per il 2-0 ottimo qua la difesa di Cessni ok, mi impappino Balbetto, ho capito non sono un commentatore nato però mi piacerebbe migliorare le dotti intanto qua fa vedere la Gazette, un uomo partita ovviamente qua fa rivedere il gol tirato un siluro nell'angolino sinistro Cessni non poteva fare ovviamente niente veramente era troppo veloce quella palla per Cessni intanto qua calcio d'angolo le Rossi pronto a battere il calcio d'angolo calcio d'angolo Manolas! bellissimo qua il portiere del Lione si è attufato in maniera clamorosa, strepitosa va visto il pallone, si è attufato Manolas, ottimo tiro qua Roma specializzata in calci d'angolo come possiamo notare calcio in mezzo parata del portiere del Lione del Cessni vai, passaggio per nuovo gioco 1-2 1-2 prova ad avanzare tiro nei confronti di Cessni parata nuovo prova il lancio lungo Depay Montreal prova per lui davanti a Cessni parata brividi di nuovo per la Roma non riesce a concludere più di tanto con questo Lione che domina questa partita 1-1 contro il portiere parata di Cessni bellissima questa parata che tiene ancora il risultato in in campo non so come dirlo equilibrato tiene così al recupero forse la Roma riuscirà a fare qualcosa comunque dominio da parte del del Lione che vince questa partita per 1-0 e nulla da dire meritata si più o meno attaccato di più il Lione la Roma è stata molto più sulla difensiva ha provato a fare qualche attacchi ma niente di concreto effettivamente tranne la prima palla di Nangolan passaggio nei confronti di De De Rossi poi intanto La Gazette che ha segnato che ha portato la vittoria a questo Lione meritato quindi vediamo un attimo al 34esimo gol di La Gazette vediamo un attimo le statistiche e come è andata effettivamente i migliori in campo chi è stato quali secondo FIFA sono stati i migliori e secondo me chi non si merita un cazzo qua intanto grandi applausi applausi bravissimi tutti allora andiamo un attimo sulle statistiche che vede dominare con i tiri ovviamente in porta i tiri sono 7-6 e quindi meritato da parte del da parte dell'Ione qua Langolan Perrotti Zecco De Rossi Strootman migliore mentre qua Fekir uomo partita La Gazette 7.9 la difesa ha fatto scintille e nulla ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like un commento e vi saluto bella Sous-titrage ST' 501